Andrea Raffa Revisore Buongiorno. Bene, adesso che vi siete presentati, se volete mi presento io. L'ha già fatto in parte, però io voglio dirvi qualcosa di più, chiaramente. Sono stati 19 anni, sono andato qui a Trento. Frequento il primo anno di studi internazionali qui all'università. Studio, perché chiaramente c'è tanto da studiare, intendiamoci. Però ho tanti hobby. Il mio preferito è lo sport, qualsiasi tipo di sport. Il migliore, direi che il mio preferito, è la pallavolo. L'ho praticato per nove anni, ad alti livelli. Adesso chiaramente non ho più il tempo per starci dietro, dette in parole semplici. Però trovo ancora il tempo per andare in palestra e allenare una piccola squadra di ragazzi under 15. Il calcio. Il calcio è qualcosa di fondamentale. A partita del venerdì con gli amici è qualcosa di sacro. Non bisogna mancare. Voi mi capite, vero? Immaginavo. E poi qui siamo a Trento. In mezzo alle montagne, in mezzo alle Dolomiti. Quindi non amare le montagne sarebbe un delitto. E quindi anche la montagna. Vado a far scalate, scio, anche scialpinismo. Insomma, mi piace muovermi. Tutte cose bellissime, no? C'è un però, un piccolo però, che per fare tutte queste cose serve fiato. E io di fiato non ne ho. O meglio, ne ho meno. Perché io ho la fibrolicistica. Cos'è la fibrolicistica, voi mi chiederete. La fibrolicistica è una malattia genetica. È una malattia genetica che compromette in maniera seria l'apparato digerente e respiratorio. In pratica, tutte le secrezioni del corpo, tutti i liquidi che produciamo, sono più densi e più concentrati. Il sudore è più salato, le lacrime sono più dense, i succhi gastrici. E c'è una frase molto importante, che risale al 1700, quando ancora c'erano delle osservazioni empiriche su questa malattia. Guai per il bambino che sapore di salato da un bacio sulla fronte. Perché è maledetto e presto deve morire. Una condanna senza appello, vorrei dire. Ovviamente le cose sono cambiate. Mi vedete? Sono qua a parlare di fronte a voi. Non sono né deperito, né altro, no? Sono in forma. Dai, ci sta, concedetemelo. Almeno questo. A un certo punto, un nostro amico, qualche estate fa, viene a chiederci, ma vuoi scalare il Kilimanjaro? E io dico, il Kilimanjaro? Cos'è il Kilimanjaro così alto? E io ho detto, informiamoci, cos'è questo Kilimanjaro? Il Kilimanjaro è la più alta montagna dell'Africa. Uno strato vulcano in fase di quiescenza, con tre coni vulcanici. Alto 5.895 metri, è la montagna più alta dell'Africa, il vulcano più alto del mondo, la montagna singola più alta del mondo e una delle Seven Summits del pianeta. Al che? E ho detto, io? Fibroecistica? Sul Kilimanjaro? No dai, non prendiamoci in giro. Ovviamente la mia famiglia inizialmente diceva, ma che cosa ti salta in testa? Poi dopo hanno capito, bisogna fare qualcosa, bisogna andare oltre, bisogna far cambiare la mentalità. I medici non ne parliamo. Sono andato al mio medico curante e gli ho detto, beh, io vorrei scalare Kilimanjaro. Ah sì? Secondo me è meglio invece che vai sul lido di Jesolo a prenderti l'aria salubre del mare, seduto lì, non ti piace? Indovinate com'è andata? Eh, ve l'ho detto prima, giustamente, quindi. E quindi, a febbraio del 2014, siamo sbarcati in Africa. E l'Africa te la raccontano. Ti dicono tante cose, però fino a quando non ci arrivi non sai veramente com'è. I primi giorni abbiamo camminato tanto in mezzo agli animali della savana, in mezzo alla giungla. Non vi dico altro. Durante la nostra attraversata della giungla c'era una pioggia battente, 99% di umidità, il fango sotto, la pioggia sopra. Insomma, un disastro. Però, mano a mano, camminando, siamo arrivati fino a qua in cima a 3.800, al primo rifugio, poi a 4.800, secondo rifugio, e volevamo dare l'assalto alla cima. E la notte dell'assalto alla cima è stata una cosa pazzesca. Sveglia a mezzanotte per arrivare in cima alle 6 di mattina in una nebbia padana. Cioè sembrava di essere lo svincolo dell'A4. Mi sono trovato lì. E questo cartello verde che diceva, Congratulazioni sei arrivato in cima al Chidimangiaro. E lì ho pianto, lo ammetto. È un sentimento umano. E poi la discesa, mi aspettavano altre 11 ore per arrivare al rifugio dove avremmo dormito. Fate conto, partenza mezzanotte, arrivo al rifugio alle 17. 17 ore di camminata al netto. Ed è andata così. Perché tutto questo è stato possibile? Voglio dire, eravamo rimasti al bambino che sapeva di salato e che presto doveva morire e adesso mandiamo un ragazzo di fibrolicistica su Chidimangiaro. La ricerca ha fatto passi da gigante. Nel 1989, che clinicamente parlando è l'altro ieri, hanno scoperto la proteina a causa della fibrolicistica, la CFTR. Questa proteina sostanzialmente è zoppa, nel senso che non permette al corpo di funzionare bene. Ora un piccolo inciso su quella che è la ricerca. Cos'è la ricerca? Ci sono tre tipi di ricerca. La prima, che potremmo chiamare terapia genica, come molti hanno definita, ha alimentato tante speranze per quanto riguarda la fibrolicistica, ma le ha deluse. La seconda è quella che ci immaginiamo tutti, lo scienziato pazzo con i fumi, gli alambicchi, questi diversi liquidi colorati. Insomma, quello che ci immaginiamo tutti. E poi c'è una terza figura, figlia di quello che è il progresso scientifico. Io lo chiamo scienziato meteorologo, perché il meteorologo guarda le correnti, le nubi, in pratica ci dà un'idea di come sarà la giornata da qui a molto tempo, anche una settimana, due settimane. In pratica lo scienziato meteorologo fa la stessa cosa con la cellula. Dice, se la cellula sottoposta a un dato trattamento reagisce in questo modo, è plausibile che ci siano tutta una serie di conseguenze. in pratica dà allo scienziato, pazzo, qualcosa di concreto su cui lavorare, non andare a tentoni, come dicevano i tanti anni, tastoni, fino a come poteva essere dieci, vent'anni fa. Questo ha permesso alla ricerca medica di raggiungere i livelli che fino a neanche tre o quattro anni fa sarebbero stati possibili. Per la prima volta è stato scoperto, è stata prodotta, diciamo, un mix vitaminico apposta per la fibroicistica. Adesso la ricerca medica e scientifica si sta concentrando sugli antibiotici, non più in vena per tre o quattro ore attaccati a un letto, ma semplicemente inalando un piccolo puff, sostanzialmente. Quello che vorrei dirvi oggi è che il coraggio di osare è anche questo. È l'abbattere il limite. Oggi si giocano i giochi importanti. Passatemi la ripetizione. Oggi, per la prima volta nella storia dell'uomo, abbiamo la possibilità di battere la malattia genetica in assoluto, più diffusa al mondo. È una sfida alla quale non ci possiamo tirare indietro. No, signori. E questa è una sfida molto più alta della scalata del Kilimanjaro. La ricerca costa, fatica soprattutto. Con me siamo tutti insieme proiettati verso questa ricerca medica e scientifica? Allora, arriveremo molto presto a una soluzione. Grazie. 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 Grazie.